50 artisti, 20 spettacoli e scenografie avvolgenti. Tutto pronto per il White Christmas, la manifestazione che esiterrà nel centro cittadino di Ponte Cagnano-Faiano, sabato 15 dicembre. L'iniziativa, che comincerà alle 18.30 e si snoderà tra Via Europa e Piazza Risorgimento, avrà come filo conduttore il bianco. Il punto di partenza sarà l'incrocio di Via Europa con Via Alfani, dal quale si dipanerà un lungo white carpet su cui sfileranno gli artisti, che si esibiranno su una moquette candida e saranno circondati da tendaggi dello stesso colore intrecciati sui pali dell'illuminazione pubblica. Sarà un'iniziativa quella di domani importante, secondo me molto molto bella, dove questa amministrazione comunale ha fatto un investimento serio in termini di qualità e anche di impegno finanziario. Ci saranno 50 artisti, 20 spettacoli, ci sarà una manifestazione di chiusura finale. Tutti i cittadini di Ponte Cagnano e anche degli altri comuni sono invitati a partecipare e soprattutto a vestirsi di bianco. Le strade del centro saranno chiuse per l'occasione fino alle 24? Sì, abbiamo come tutte le altre iniziative del Natale fatto una programmazione seria, quindi come vedrete sono convinto che queste iniziative, a partire da quella di domani, potranno dare già un segnale di rilancio e di differenza rispetto a quelle che erano iniziative spot, giusto per, fatte all'ultimo minuto.